Musica Per gli abiti si ringrazia il negozio vestimi di via Linolovo a Opeano Verona e Moda Mia in via Madonnino 82 a San Giovanni Lupatotto Eccoci qui cari amici di Seri in Festa, buongiorno e buon lunedì 2 maggio Dopo un giorno di festa siamo pronti e carichi per partire con una nuovissima settimana insieme e non sarò sola, verranno a trovarmi finalmente gli area 22 Partiamo subito però con questa mattinata, lo facciamo come sempre con la nostra musica Si parte con Gigio Valentino e il brano Sarà e subito dopo Felice Piazza con L'amore si muove Vi auguro un buonissimo lunedì Io me lo ricordo come fosse ieri con quei tuoi bellissimi capelli neri e i semafori del cuore sempre rossi tra di noi Lavoravo troppo con la fantasia per rubare un attimo la nostalgia Lo sa Dio se avrei voluto urlare questa verità Ti ho mischiata dentro il mazzo delle mie emozioni e ti ho messa dentro tutte queste mie canzoni Ti ho cercata dentro i vuoti a rendere dell'anima Sarà, questa vita non ci renderà le ore neanche i giorni senza te Adesso sono qui Sarà, sarà che l'aria che respiro insieme a te mi sembra magica Sarà, che quando sono insieme a te mi fai sentire come l'unica Sarà, sarà il terzo tempo di una vita che credevo quasi inutile La sola verità da vivere con te Sarà, la nostra storia tra la gente che ci guarda e che non capirà Sarà, la nostra casa a far la spesa, a far l'amore per l'eternità Sarà, sarà i gradini di una chiesa di campagna che ci sposerà Sarà, cosa sarà, ma non sarà con te Sei arrivato proprio dritto al cuore che mi scalda il fuoco delle tue parole hai la forza del vento che mi porta via La tua mano che mi sfiora il viso lo si legge dentro al tuo sorriso ora tu come me respiri questa favola Ora innamorati senza via di scampo Stretti in un abbraccio da fermare il tempo Mentre la città si accende Siamo il buio noi Nel tuo letto non è mai calato il sole Se ci credi veramente mai si spegnerà Sarà, la nostra storia tra la gente che ci guarda e che non capirà Non c'è dolore se ci sei tu È come un sogno anche di più E c'è qualcosa negli occhi tuoi Che non mi lascia mai Non ho paura se resti qui Perché l'amore mi chiude gli occhi Vorrei baciarti adesso sì Vorrei che fosse così L'amore si muove Ti porta lontano se vuoi Ti prende per mano senza Dirti dove andrai L'amore si muove E non fa rumore Lo sai È un vento gentile Che non ti abbandona mai Come un regalo Così inatteso Una sorpresa Tu lì per caso C'era qualcosa Negli occhi tuoi Che non scorderò mai L'amore si muove L'amore si muove Ti porta lontano se vuoi Ti prende per mano senza Dirti dove andrai L'amore si muove E non fa rumore Lo sai È un vento gentile Che non ti abbandona mai E penso a quello che sarei A quello che saremo noi All'amore che ci porta a vivere Il ponte del 25 aprile Del 1 maggio Sono già passati Ma ci sono ancora Tanti appuntamenti consigliati Dove andare a ballare Dove andare a divertirsi Lo scoprita degli appuntamenti Della settimana Densi Nevada Terrosa di Ronca Verona Martedì 3 maggio Latinoamericano In sala 2 Chizomba Giovedì 5 Patti e Paolo Band Ospite Maurizio Medeo Venerdì 6 Romeo Leopardo Sabato 7 La Band Italiana In sala 2 Latino Chizomba Domenico 8 maggio Oscar e Mary Band Ospite Michele Rodella In sala 2 Latino Chizomba Giornata speciale Festa della mamma Omaggio a tutte le mamme presenti Il ristorante e pizzeria Cacciatore Vi aspetta con ottime specialità Circolo 7 Notte Lo trovate in via Nata 18 Settimo di Pescantina Verona Per info 348 08 454 53 Sabato 7 maggio Si balla con Yolanda Band Si balla tutti sabato Fino a fine maggio Palacover Dancing Via Vittorio Emanuele 3 Nogara Verona Per info www.palacover.it Sabato 7 maggio Andrea E souvenir orchestra Domenica 8 si balla con Katie Piva Sagra Palù Verona Venerdì 6 maggio Serata anni 60-70 Con il gruppo SP6 Sabato 7 si balla con L'orchestra di Alex Marossi Domenica 8 maggio Sergio Cremonese Lunedì 9 Graziano Mareskin A seguire Estrazione Lotteria Stand gastronomici Si balla su Grandiosa Pista Ingresso libero Zed Live presenta il musical Notre Dame de Paris Presso Zoppa Sarena Conegliano Treviso 6-7-8 maggio Alle ore 21.30 Sabato domenica Replica pomeridiana Prevendite abituali Nasce nel 1896 la grande tradizione del Colle Presso il punto vendita potrete trovare molte idee per i vostri momenti di dolcezza Come i pandorini, le croissant e le ottime merendine ideali per i vostri bambini E per gli amanti del salato Uno snack sfizioso al gusto pizza, rosmarino, sesamo e cereali Grande convenienza nel reparto seconda scelta E ancora vini Montenegro e riso Vialone Nano di produzione propria Per festeggiare i vostri momenti speciali Ideali i dolci surgelati Come tiramisù, Santa Norè, crostata di frutta e torta della nonna E molte altre specialità Lo spaccio dal Colle Vi aspetta in via Straa, Colognola e Colli Aperto dal lunedì al sabato Dal Colle Ed è sempre festa La merceria vi aspetta con la consueta cortesia e professionalità Presso il punto vendita via Garibaldi, spazio 3, Bovolone Venite a scoprire gli arrivi primavera-estate, moda mare Corseteria per la sposa, trussar di uomo Inoltre bottoni, pizzi, passamaneria E tutto per i fai da te La merceria è aperta tutti i giorni Dal lunedì al sabato Sabato con orario continuato Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza Se gala ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio Lo staff attento alle esigenze del cliente È sempre cordiale Vi aspetta dal lunedì al sabato Nello showroom a Gazzo Veronese In via Canove I professionisti del settore Sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa Accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno Qui infatti troverete molte idee Dalle più tradizionali alle più moderne Ceramiche, rubinetterie, sanitarie Colonne per box doccia e molto altro Fiore all'occhiello Il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pelez e a legna Ad un ottimo rapporto qualità prezzo E ancora parchè, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi Grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto Outlet Con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno Per toccare con mano la qualità dei prodotti Venite a trovarci Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato Segala Ceramiche Da più di 30 anni Veste la tua casa In un luogo immerso nella natura Situato in località valli a Rivoli veronese Troverete l'azienda agricola Lotto Gabriele Con produzione e vendita diretta di asparagi Lo spaccio è aperto al pubblico tutti i giorni Per info 3384870100 Solo qui troverete i veri asparagi di Rivoli Dalla terra alla tavola C'è chi dice che il paradiso sia solo in cielo Adesso il paradiso è anche ai tuoi piedi Fiocco Calzature La scarpa per passione Calzaturificio Fiocco Azienda storica di Bonferraro di Sorgà Creiamo e produciamo calzature donna di qualità Uniche ed artigianali Usando pellami e materiali di qualità e moda Per ottenere un conforto su misura di chi li indossa Nel nostro spaccio aziendale Aperto da lunedì al sabato Troverete il meglio della nostra collezione Dal produttore al consumatore Made in Italy al giusto prezzo Calzaturificio Fiocco Via livelli 23 a Bonferraro di Sorgà Fiocco Calzature La scarpa per passione Abbiamo aperto così il mese di maggio E questo mese è un mese particolare Anche per tanti matrimoni E tante ricorrenze particolari Con l'occasione salutiamo tutte quante Le fresche sposine in ascolto E dedichiamo allora il brano Bacciare la sposa L'orchestra è quella di Fabio Cozzani Ora sì puoi baciare la sposa Sta dicendo il prete così E tu come una stella radiosa Sorridendo hai detto quel sì È già tutta commossa la chiesa Mentre invece qui dentro di me C'è un ricordo che sul cuore mi pesa E non dà una risposta E perché Ora lui può baciare la sposa Ma di me cosa mai ne sarà Oramai la mia storia si è chiusa Ma questo mio cuore però non ci sta Ora lui può baciare la sposa Ogni volta che deciderà Ed a me ruberà qualche cosa Ogni volta che lui lo farà Resterò a pensare in silenzio Ai momenti che mai più scorderò Puoi trovarmi qui solo a morire Solamente al pensiero che è lui Ora lui può baciare la sposa Ma di me cosa mai ne sarà Oramai la mia storia si è chiusa Ma questo mio cuore però non ci sta Ora lui può baciare la sposa Ora lui può baciare la sposa Ogni volta che deciderà Ed a me ruberà qualche cosa Ogni volta che lui lo farà Ogni giorno sarà uno strappo dell'anima Per me ogni notte sarà Un rimpianto e una lacrima Ora lui può baciare la sposa Ora lui può baciare la sposa E dopo aver salutato le sposine di ascolto Tanti sono gli amici da salutare Nell'angolo della posta Lo scopriremo tra qualche istante Dopo la pubblicità vi aspetto Dopo una brevissima pausa pubblicitaria Si parte alla grande in questo lunedì Salutando dei carissimi amici Partiamo con un tespettatore Che ci segue tutti i giorni E' l'ingegnere Claudio di Roverbella Al quale dedichiamo un brano di Maurizio Medeo Abbiamo scelto Alba sul mar Con tanti tantissimi saluti E ancora tanti saluti Alla signora Stefania Che vuole sentire il brano Arrivederci amore Di Marianna Lanteri Lo scopriamo insieme Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci amavamo più che mai, adesso non riesco a pensare a una vita senza di te. Io mi trovo sperduta ma sento il mio cuore batter forte, tu sai perché. Ma arrivederci amore, ti saluto per sempre così. Arrivederci amore, una lacrima chiusa nel cuore. Questa sento io pianto d'amore. Un'altra lacrima chiusa nel cuore. Questa sera io pianto d'amore. Questa sera io pianto d'amore. Le croissants e le ottime merendine ideali per i vostri bambini. E per gli amanti del salato, uno snack sfizioso al gusto pizza, rosmarino, sesamo e cereali. Grande convenienza nel reparto seconda scelta. E ancora vini Monteverro e riso Vialone Nano di produzione propria. Per festeggiare i vostri momenti speciali, ideali i dolci surgelati, come tiramisù Sant'Anorè, crostata di frutta e torta della nonna e molte altre specialità. Lo spaccio dal Colle vi aspetta in via Stra a Colognola ai Colli, aperto dal lunedì al sabato. Dal Colle ed è sempre festa. La merceria vi aspetta con la consueta cortesia e professionalità. Presso il punto vendita via Garibaldi, spazio 3, Bovolone. Venite a scoprire gli arrivi primavera-estate, moda mare, corseteria per la sposa, trussar di uomo. Inoltre bottoni, pizzi, passamaneria e tutto per il fai-da-te. La merceria è aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Sabato con orario continuato. Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente e sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via Canove. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno. Qui infatti troverete molte idee dalle più tradizionali alle più moderne, ceramiche, rubinetterie, sanitarie, colonne per box doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ancora parchè, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da accogliere al volo nel reparto Outlet con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala Ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. In un luogo immerso nella natura, situato in località Valli, a Rivoli, veronese, troverete l'azienda agricola Lotto Gabriele, con produzione e vendita di rete di asparagi. Lo spaccio è aperto al pubblico tutti i giorni, per info 3384870100. Solo qui troverete i veri asparagi di Rivoli, dalla terra alla tavola. C'è chi dice che il paradiso sia solo in cielo. Adesso il paradiso è anche ai tuoi piedi. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. Calzaturificio Fiocco, azienda storica di Bonferraro di Sorgà. Creiamo e produciamo calzature donne di qualità, uniche ed artigianali, usando pellami e materiali di qualità e moda per ottenere un conforto su misura di chi li indossa. Nel nostro spaccio aziendale, aperto dal lunedì al sabato, troverete il meglio della nostra collezione. Dal produttore al consumatore. Made in Italy al giusto prezzo. Calzaturificio Fiocco, via livelli 23 a Bonferraro di Sorgà. Fiocco Calzature, la scarpa per passione. E ancora un po' di spazio qui nell'angolo delle richieste. Prima di lanciare il prossimo brano vi ricordo i nostri tre recapiti. L'email ormai la sapete essere in festa a chiocciola.mail.it I numeri sono in sovraimpressione e la pagina Facebook è Seria in festa, carletti e spettacoli. Mettete mi piace e scriveteci con un po' d'anticipo. Arriva lei, Maria Piede di Potesi Band, che ci presenta una catena. Ancora qui da sola. A stringermi un cuscino e tu che te ne vai per ritornare da lei, domani ci sentiamo. Vorrei abbracciarti ancora per dirti che ti amo, ma non vedo né i tuoi occhi che per me tu non ci sei più. E mi resta il silenzio per pensarti ore intere, a convincermi ancora che per stare con te parla appena soffrire. E minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continuo a parlarmi di te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai che pena che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena. Che mi lega senza te. Che tormento questo amore che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco. E tu prendi come un gioco, ai che pena che dolore, prima giù poi su a volare, questo amore è una catena che mi lega senza te. E termina così anche l'angolo delle richieste del lunedì, ci vediamo tra qualche istante dopo la pubblicità, naturalmente con la ricetta del cuoco matto del lunedì, imperdibile, a tra poco. Ed eccoci qui, ben rientrati a Serie in Festa, siamo pronti in questo lunedì per continuare la nostra puntata. E prima di andare in cucina dal cuoco matto per scoprire la ricetta del giorno, ci ascoltiamo Mirko Bellutti con un bellissimo duetto dal titolo Ho scelto te e subito dopo gli appuntamenti consigliati. Ho scelto te quel giorno che il mio cuore ha deciso di averti, ha deciso di stare con te. Ho scelto te e se c'è un perché è soltanto la voglia che avevo di vivere e amare solo te. Ho scelto te e non ho mai sbagliato, non ho mai provato che cosa vuol dire l'infelicità. Innamorati, così dal primo giorno, quando la nostra età, pinta di povertà, ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati, così dal primo giorno, innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita e per sempre. E scelto te anche adesso che questa ruga che solca il tuo viso è la strada che hai fatto con me. E scelto te anche adesso che quest'argento che hai sui capelli è un tesoro prezioso per me. Innamorati, così dal primo giorno, quando la nostra età, pinta di povertà, ci scopriva ricchi d'amore. Innamorati, così dal primo giorno, innamorati con in tasca carezze e due cuori legati da una sola vita, una vita e per sempre. Innamorati, così dal primo giorno. Densi Nevada, Terrosa di Ronca, Verona. Martedì 3 maggio, Latino Americano, in sala 2, Chizomba. Giovedì 5, Patti e Paolo Band, ospite Maurizio Medeo. Venerdì 6, Romeo Leopardo. Sabato 7, La Band Italiana, in sala 2, Latino Chizomba. Domenico 8 maggio, Oscar e Mary Band, ospite Michele Rodella. In sala 2, Latino Chizomba. Giornata speciale, festa della mamma. Omaggio a tutte le mamme presenti. Il ristorante e pizzeria Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Notte, lo trovate in Vianata 18, settimana di Pescantina, Verona. Per info, 348-084-5453. Sabato 7 maggio, si balla con Yolanda Band. Si balla tutti sabato, fino a fine maggio. Palacover Dancing, via Vittorio Emanuele 3, Nogara, Verona. Per info, www.palacover.it. Sabato 7 maggio, Andrea e il Souvenir Orchestra. Domenica 8, si balla con Cattipiva. Sagra Palù, Verona. Venerdì 6 maggio, serata anni 60-70, con il gruppo SP6. Sabato 7, si balla con l'Orchestra di Alex Malossi. Domenica 8 maggio, Sergio Cremonese. Lunedì 9, Graziano Mareskin. A seguire, Estrazione Lotteria. Stand gastronomici, si balla su grandiosa pista. Ingresso libero. Zed Live presenta il musical Notre-Dame de Paris. Presso Zoppa Sarena, Conegliano Treviso. 6, 7, 8 maggio, alle ore 21.30. Sabato domenica, replica pomeridiana. Prevendite abituali. La rubrica di cucina del Cuoco Matto è offerta da Schenato e Chiaregin, Arreda la tua cucina, via Madonna 404, Bovolone, www.cucineverona.com Ed eccoci qui nello showroom Schenato e Chiaregin di Bovolone, pronti come tutti lunedì per la ricetta del Cuoco Matto. Un benvenuto al nostro Giorgio. Ciao Serena e ciao a tutti. Oggi ci presenti le barchette, il prosciutto crudo, mozzarella e melone. Come hai mai scelto le barchette? Eh perché le ore serene sono andate al mare, allora mi è più un'inventiva di fare le barchette. Davvero belle, qui il profumo si sente proprio bene. Allora partiamo subito con gli ingredienti. Vi servirà un melone, 250 grammi di prosciutto crudo San Daniele, 150 grammi di mozzarella e ciliegia, 10 stuzzicadenti lunghi. Il costo per 4 persone è di 15 euro circa. Il procedimento, non c'è neanche da dirlo, è davvero facile. Serve solamente un po' di fantasia per la composizione. Giorgio appunto ha scelto queste barchette, è davvero una bella idea direi. E allora anche voi da casa provate, prendete il vostro melone, dopo averlo pulito e tagliato, prendete i stuzzicadenti lunghi e aggiungete in maniera alternata la mozzarella e il crudo. Se poi a vostra fantasia volete aggiungere anche un'oliva, un pomodorino colorato, rosso, vedete voi. Il risultato è molto semplice e allora provatelo anche a casa. Caro Giorgio, devi sapere che alcuni telespettatici ci mandano le fotografie con i tuoi piatti. Bene, vuol dire che fiamo bene le robe. In particolare Federica la vogliamo salutare, ci ha mandato un selfie con il suo piatto di gnocchi che avevi proposto qualche settimana fa e allora vi invitiamo nuovamente a provare i piatti di cuocco matto e a mangiarci le vostre foto. Chissà, magari qualche giorno possono venire qui con noi a cucinare. Certo, e vi aspetto tutti quanti. e un grosso bacione a te Federica. Ciao, dal nostro cuocco matto e serena. Ciao. E viva il nostro cuocco matto che tutte le settimane riesce a sorprendersi con la sua fantasia in cucina. Come vi diciamo sempre, provateci anche voi e fateci sapere poi come è andata. Io vi saluto, vi aspetto domani mattina sempre qui alle 11.15 su Telearena oppure in streaming su telearena.it cliccando diretta. Come vi ripeto saranno i nostri ospiti tra qualche giorno gli area 22 e allora non perdetevi questo grandissimo appuntamento. Vi lascio in compagnia dell'orchestra di Stefano Frigerio con Luna Italiana. Io ti miro, tu mi miras o sottose nel baile in busca del amor. Tu miradas in palabras e la luna che mi chiama non posso respirare. Io ti guardo, tu mi guardi fino a un ballo che ci abbraccia ma l'amore ci travolgerà. I tuoi occhi sono stelle e questa luna che ci chiama io non resisterò. folle e fantasia sentirti dire tu sei mia e accorgo che io voglio te bailando. Io voglio te bailando. Forse una pazzia ma adesso tu sei mia ti stringo forte al cuore mio bailando. Vero bella contigo basta che ieri e ieri e ieri come 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 ieri e 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 ieri e ieri e ieri come ieri e ieri e ieri e ieri come ieri e ieri e ieri e ieri nel mio battito c'è il tempo e il ritmo del mio amore Talvez è una locura, però ora eres mia Te sento cerca di mio corazon bailando Folle fantasia, adesso una pazzia Ti distringo forte al cuore mio bailando Quiero volar contigo, hasta que llegue mañana Como gritos de la luna, una luneta llana Hasta el amor contigo, hasta que llegue mañana Quiero robar tu corazon, en esta nochita llana Quiero volar contigo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Hacerno el amor contigo Con questo brano lo staff di Serimpesta vuole rendere omaggio e ricordare l'amico Giampaolo e la sua passione per la musica. Nelle notti più buie ci sei a proteggermi il cuore da tutte le mille tempeste che vivono in me. Tu sei la mia stella, il faro che mi guida fuori da tutti i guai. Tu sei proprio quella che mi fa sentire il più importante che sei. Rimani per sempre così, non devi cambiare perché sei il sole che scalda, sei l'aria che respirerò finché vivrò. Sei tu che accendi la mia anima, sei tutto quel che ho sempre voluto lo sai. Sei il mare in cui vorrei immergermi, sentire quel calore che tu sola mi dai. Tu ci sei, nelle notti più buie ci sei, a proteggermi il cuore da tutte le mille tempeste che vivono in me. Tu sei la mia stella, il faro che mi guida fuori da tutti i guai. Tu sei proprio quella che mi fa sentire il più importante che sei. Rimani per sempre così, non devi cambiare perché sei il sole che scalda, sei l'aria che respirerò finché vivrò. Tu sei la mia stella, il faro che mi guida fuori da tutti i guai. Tu sei proprio quella che mi fa sentire il più importante che sei. Tu ci sei, nelle notti più buie ci sei, a proteggermi il cuore da tutte le mille tempeste che vivono in me. Tu sei la mia stella, il faro che mi guida fuori da tutti i guai. Tu sei proprio quella che mi fa sentire il più importante che sei. Rimani per sempre così, non devi cambiare perché sei il sole che scalda, sei l'aria che respira. Tu sei proprio quella che mi guida fuori da tutti i guai.